Quella della squadra penso che abbiamo fatto bene, abbiamo andato in Europa, quello era l'oggettivo e penso che debbiamo stare felici, ma il prossimo anno debbiamo farlo meglio e poi in quanto a me penso che questo è solo il comienzo e l'anno prossimo sarà molto meglio. Sì, penso che è arrivato un allenatore giusto, poi abbiamo un gruppo molto unito, penso che è la prima volta che vedo un esploratorio così e poi penso che abbiamo vinto anche la Supercoppa contro la Juventus, che nessuno adesso ricorda tanto ma penso che è molto importante e adesso siamo tornati in Europa, come ho detto prima, penso che l'anno prossimo debbiamo fare meglio che questo anno. Per me era il sogno mio arrivare qua e giocare in questa squadra, ma come ti ho detto, lo più importante era che la squadra arrivasse in Europa League e adesso siamo di là, manca ancora una partita, poi come ho sempre detto in estate, poi decideremo e vedremo. Tu sai che tra i tifosi c'è un po' di paura, di perdere un giocatore come il Suso c'è un po' di paura? No, io sono molto contento, ho sentito loro molto vicino questo anno, io con i tifosi voglio ringraziare perché quest'anno è stato bellissimo, ma come ti ho detto, vediamo che cosa fa la società e poi vedremo, se loro vogliono parlare, come ho detto prima, sapendo dove cercarmi. Grazie. Grazie a tutti.